Ciao, sono Bianca e questa è la mia azienda agricola a Pienza in Toscana. Qui produco olio d'oliva e cereali biologici e come tutti gli altri agricoltori sto continuando a lavorare per garantire un prodotto sano e genuino nelle vostre tavole. Quindi se per favore vuoi aiutarci nel nostro lavoro, mangia italiano perché la campagna non si ferma. Anche in questo periodo critico la piccola agricoltura biologica non si ferma, anzi accelera il passo per continuare a portare sulle vostre tavole tante verdure italiane, locali, sane e di stagione. Teniamo duro e tutti insieme ne usciremo più forti di prima.